Il Giuliano arriva dalla sconfitta per 3-0 contro il Foggia della scorsa settimana. Come ha detto Mister Di Napoli nell'intervista post partita, c'era da leccarsi appunto le ferite e si pensa alle ultime due sfide. La prima, ecco, questa domenica in casa, l'ultima in casa contro il Potenza e poi concluderemo la stagione fuori casa a Crotone. C'è da pensare alle ultime due sfide in quanto abbiamo bisogno della matematica salvezza e quello l'obiettivo che si è posto il Giuliano all'inizio stagione, semplicemente una salvezza tranquilla. Ecco, abbiamo le ultime due sfide, quindi speriamo di raggiungere almeno la matematica salvezza questa settimana e perché no, possiamo ancora permetterci, ecco se la matematica non ho un'opinione, di fare anche qualche pensierino ancora ai playoff. Quindi vedremo, ecco, il campo cosa ci dirà. Sicuramente la squadra si starà preparando per presentarsi al meglio, all'ultima in casa, in cerca appunto di fare risultato o comunque di portare almeno un punto a casa per la matematica salvezza. Non ci sarà certamente di Dio il centrocampista perché ha avuto due giornate di squalifica per il rosso diretto ricevuto proprio in quel di Foggia e al momento non credo ci sia qualche altro indisponibile, poi seguiranno aggiornamenti su questo. Quindi testa domenica e cercheremo di scendere in campo dando sempre il massimo e cercando di portare a casa la partita.